Noi la pareggita oggi dobbiamo prendere questo pareggio come un risultato importante perché abbiamo sofferto sicuramente la prima mezz'ora, come avete visto, un Padova che sicuramente non ha bisogno di essere presentato perché ha nuovere giocatori importanti. Quindi poi quando abbiamo pareggiato il modulo ci siamo messi a specchio come loro, credo che li abbiamo essi in difficoltà nell'ultimo quarto del primo tempo e in quasi tutto il secondo tempo. Quindi forse abbiamo avuto qualche coseno in più di loro, loro ce l'hanno avuta sicuramente nella prima parte che se avessero sfruttato forse la partita avrebbe preso una piega diversa. Però dobbiamo saper accettare secondo me un pareggio contro una squadra forte, a me il Teramo per 60 minuti mi è piaciuto, ha cercato di vincere la partita, ha cercato di mettere in difficoltà il Padova e poi vi voglio dire una cosa perché io ho visto quattro partite del Padova, le ultime quattro e nessuna squadra ha messo in difficoltà il Padova che ha messo in difficoltà il Teramo. Questo credo che l'allenatore del Padova che li conosce lo possa comunque sia accertare e comunque sia affermare. Secondo me è stata una buonissima prestazione, siamo tornati a creare, cosa che era mancata un po' sabato scorso, ci stiamo ritrovando, ci sono state certe mancanze anche come uomini, stiamo ricostruendo una squadra che dall'inizio creava molto, abbiamo un po' di difficoltà a realizzare, però l'importante è che la squadra trovi una sua fisionomia e la sta trovando. Oggi abbiamo palleggiato bene, abbiamo messo bene la palla, abbiamo creato le situazioni giuste, anche a livello caratteriale, abbiamo nei momenti di difficoltà, siamo compattati, siamo contenti, siamo molto contenti della prestazione.